Un tentato omicidio, 155 denunce per minacce alla partner, 31 per percosse e 68 per lesioni. Sono davvero impressionanti i numeri della violenza in rosa dal gennaio a oggi in provincia di Lecco. Complessivamente sono 345 i reati, più di uno al giorno. Nel Novero ci sono anche 13 violenze sessuali, 35 maltrattamenti in famiglia. Un caso di atto sessuali con minorenni, oltre a 9 ammonimenti per atti persecutori. Lo stalking e uno per violenza domestica. A fotografare il fenomeno sono questi dati forniti dalla questura di Lecco in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Lunedì la Polizia di Stato promuoverà a livello nazionale la campagna Questo non è amore. A Lecco la questura sarà presente in mattinata nella hall dell'ospedale Manzoni. Un'equipe composta da operatori specializzati nel trattare reati di violenza di genere sensibilizzerà la cittadinanza per denunciare alle forze dell'ordine tutte le eventuali situazioni di disagio sociale. L'iniziativa è infatti l'obiettivo di favorire l'emersione del fenomeno della violenza di genere, agevolando il contatto con potenziali vittime, offrendo loro il supporto di operatori specializzati di polizia. Anche se i numeri divulgati sono alti, si tratta di un quadro ancora parziale di un fenomeno in provincia di Lecco, troppo spesso sottacciuto per diverse ragioni. L'invito dunque a tutte le vittime è quello di farsi coraggio e denunciare rivolgendosi alle forze dell'ordine o ai centri di volontariato. Grazie.